we wish you a merry christian we wish you a merry christian we wish you a merry christian and a happy new year radio lasagne verdi una lasagna di radio salve a tutti lasagnini e lasagnine ben tornati in questo nuovo podcast oggi ai microfoni di la di lasagne verdi ci sono io chiara edoardo e abbiamo un ospite lello mostro giovanni salve a tutti vai edoardo allora io direi di prima di iniziare con le domande più specifiche di parlare un pochino del formale quindi della storia degli scacchi allora per quello che posso dire io brevissimo naturalmente gli scacchi sono stati inventati diciamo così in india nel sesto secolo dopo cristo circa arrivando poi in europa nel medioevo intorno all'anno 1000 insomma poi le regole sono cambiate nei secoli via via fino ad arrivare alle regole attuali conosci qualche aneddoto sul sul numero di caselle su gli scacchi in generale di aneddoti ce ne sono tanti però comunque sulle caselle ecco un aneddoto forse potrebbe essere quello ho letto una volta sul libro insomma c'era un principe indiano ecco tanto per dirla così che annoiato perché poteva avere tutto quello che voleva insomma si fece arrivare un inventore a corte affinché lo togliesse dalla noia no questo inventore arrivò lì e posò per terra una tavola di legno dove c'erano 64 caselle bianche nere che si alternavano e dei pezzi di legno sopra rifiniti chiaramente torre alfiere cavallo li chiamiamo così oggi non si chiamavano così all'epoca e dicendo questo è un gioco che affascinò questo principe vuole sapere le regole naturalmente le spiegò l'inventore fece qualche partita il principe perse però alla fine era talmente così voleva voleva quelle voleva quel giocattolino no e dice cosa vuoi in cambio di questo regalo e umilmente disse praticamente l'inventore disse sire io mi accontenterei di un granello di grano sulla prima casella due granelli sulla seconda quattro sulla terza e così via fino alla sessantaquattresima casella in fondo il principe era cioè dice così poco però non si rese conto che stava svaleggiando il suo granaio perché facendo in questa esponenzialità non gli bastava il raccolto del grano di tutto un anno e quindi per cui alla fine feci uccidere addirittura per non dargli tutti i granai quindi perché l'esponenzialità chiaramente si capisce da sé lì in quel caso era due alla sessantaquattresima meno uno no e quindi arriviamo a granelli di grano che appunto è un granello intero quindi possiamo dedurre che tu sei un giocatore di scacchi quando hai no no ti corrego subito cioè sì un giocatore di scacchi ma non professionista ok quindi per passione quando hai iniziato a giocare allora penso da ragazzino perché c'era un mio zio e praticamente mi faceva vedere questa scacchiera mio zio che ora non c'è più e che era appassionato di enigmistica di queste tutte queste cose problematiche diciamo problemi matematici e quindi mi appassionava gli scacchi e insieme a lui mosse i primi passi poi insomma poi batte il maestro insomma solitamente allora sappiamo che organizzato un torneo con l'associazione ragazzi di san rocco come funziona un poco questo torneo allora innanzitutto questo torneo siamo già alla terza edizione già fatte altre due è la cosa che piace a me anche perché faccio parte dell'associazione insomma quindi che che mi piace vedere e che nell'andare avanti di questi tornei abbiamo sempre più diciamo un numero maggior di partecipanti e qualità maggiore nei partecipanti siamo arrivati infatti a questo torneo attuale ad avere anche delle figure femminili per cui 30 anni fa era immaginabile le donne che giocavano a scacchi praticamente era veramente una rarità assoluta insomma e quindi la cosa ci piace per questo insomma poi il torneo evidentemente si svolge non è un torneo lampo diciamo quelli di una giornata si svolge in due tre mesi vari appuntamenti quindi è spalmato nel tempo sì sì praticamente poi alla fine tra incontri diretti andata e ritorno andata e ritorno intendiamo che gioca in casa chi è col bianco risponde il nero e poi nel ritorno viceversa insomma approfitto per dire infatti che a scacchi muove prima il bianco o meglio è detta così però a scacchi muove prima chi ha il re a destra della sua regina questo sarebbe ok hai citato alcune regole e in breve ce ne puoi spiegare altre allora gli scacchi come abbiamo detto sono spalmati su 64 caselle si gioca su una scacchiera quadrata di 64 caselle 8 per 8 si parte dal fatto che la scacchiera deve essere sempre rivolta col bianco a destra di ogni giocatore e si va dall'1 a 8 come travesse e da a a b c d e f g h come colonne praticamente quindi ogni casella chiaramente è univoca perché va in un ingrocio tra come devo dire tra le due posizioni insomma longitudine e latitudine quindi ogni casella h6 e h6 sia per il bianco per il nero ecco quindi l'1 il bianco avanza dall'1 verso l'8 il nero risponde dall'8 verso 1 però la casella è sempre univoca insomma 15 a fiamole sono posizionati i pezzi con le due torri ai margini e poi praticamente i cavalli gli alfieri e la regina sul proprio colore bianca sul bianco nero la regina nera sul nero insomma muove per primo e bianco risponde nero infatti si dice che il nero e il bianco attacca il nero si difende il bianco ha solo una piccolo un piccolo vantaggio iniziale che quello della prima mossa però poi dopo le primissime mosse questo vantaggio si annulla naturalmente infatti se oggi si fa giocare un computer contro un computer solitamente si si patta la partita e quanto può durare una partita più o meno c'è un limite di tempo durante il torneo allora i limiti sono ci sono le partite blitz chiamiamoli così che durano da un minuto a tre minuti a cinque minuti a 15 diciamo che dalla mezz'ora in poi cominciamo a considerare una partita di scacchi perché comincia a essere un po' ragionata mezz'ora si intende mezz'ora a persona voglio dire no in quando si usa un orologio muove il bianco preme il tasto blocca il suo orologio parte il nero e così via il nero muove schiaccia il suo testo del proprio orologio e riparte il bianco per cui c'è anche una corsa contro il tempo non solo ad arrivare alla fine della partita che sarebbe la cattura del re avversario no perché lì finisce la partita ma finisce anche se finisce il tempo cioè naturalmente indipendentemente dalla posizione sulla scacchiera a parte qualche eccezione che non stiamo a dire qua praticamente finisce anche col finire del tempo quindi una volta che è finito il tempo si guarda come sono posizionati no 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 una volta che è finito il tempo chi ha finito il tempo ha perso ah ok anche se sta vincendo sulla scacchiera ah ok ok quindi è una è una diciamo è anche una mi ripeto è anche una corsa contro il tempo insomma e il tempo ecco in gare ufficiali possono arrivare a due ore per per giocatore per giocatore anche se di solito nelle gare internazionali che io sappia quel poco che so insomma si arriva a due ore per giocatore per arrivare alla 40esima mossa dopodiché si avrà altro tempo insomma poi si va di volta in volta a decidere le varie le varie tempistiche insomma ok quindi negli scacchi quanto è importante la concentrazione alla fine assolutamente tutto negli scacchi allora vincere a scacchi non significa essere più intelligenti all'avversario significa soltanto ragionare giocare di più cioè a scacchi vince chi gioca di più è come andare a correre no se sei allenato ce la fai se no non ce la fai fai una maratona insomma e quindi è tutto lì negli scacchi è la stessa cosa è un allenamento mentale piuttosto che fisico ma sembra un allenamento quindi può essere considerato una specie di sport sì diciamo che non di non ti fa dimagrire però mentalmente ti occupa parecchio sport e a proposito di questo io vorrei proprio spezzare una lancia fuori gli scacchi che più bel gioco del mondo perché non è un gioco d'azzardo in quanto non hai la possibilità se hai una determinata carta per giocarla eccetera eccetera lì si è alla pari praticamente sono due eserciti che si affrontano per cui lì sorgono e tu che fai il condottiero chiaramente adopererai delle strategie per arrivare a catturare il re avversario e l'altro farà lo stesso insomma quindi si usano delle strategie la concentrazione naturalmente la parte predominante infatti negli nei tornei di scacchi a determinati livelli io leggevo una volta c'era un campione del mondo che adesso mi sfugge il nome faceva spegnere pure l'aria condizionata e pure quella gli dava quindi gli scacchi sono il più bel gioco del mondo ripeto perché sono meritocratici non c'è fortuna e io vorrei che gli scacchi venissero adottati anche come fanno in molti paesi dell'est non per niente i maggiori campioni sono stati sempre russi no sì c'è stato nel 72 fisher americano però voglio dire al di là di questo i russi l'hanno fatto sempre da padrone o almeno comunque i paesi dell'est no perché loro li adottano già dalle scuole a parte poi il frido iniziano a giocare uno fa poco sport però il discorso è che loro li adottano le scuole e nelle scuole sarebbe importante ma non solo a mio avviso già dalle primarie e così come sarebbe importante per esempio dove vivono gli anziani no forse pure l'alzheimer tarderebbe un po ad arrivare no un modo per tenere allenata la mente perché gli scacchi sviluppano è matematica pura praticamente sviluppano un ragionamento logico matematico diciamo che gli scacchi più o meno sono come il greco e il latino ti aiutano a ragionare alla fine cioè ti arrivano a non a buttarti subito al fare cioè ragionare deve seguire un percorso logico non conosco il greco il latino per rimembranze scolastiche sì ok sicuramente sì non so cosa aggiunge insomma se volete direi che non so hai qualche altra storiella qualche altra cosa da raccontarci o concludiamo così io vorrei che gli scacchi non so fossero un po come piuttosto che fa le guerre no sfilatevi a scacchi forse nella guerra la guerra fredda tra l'ex unione sovietica l'america si giocava pure su questo no partita sì cioè lì una partita scacchi diventava qualcosa di grosso molto più che una partita scacchi no e però voglio dire vorrei che fosse un po ecco come oriazzi e curiazzi no cioè si chiamano così oriazzi e curiazzi cioè nel senso che scendo tre persone in gambo e si sfidano anziché fare uno spargimento di sangue tra tra i interi eserciti la facciamo io e te la battaglia chi vince vince chi perde perde sì perché alla fine è una specie di guerra sì perché gli scacchi sono sono veramente come posso dire c'è molto antagonismo tra i giocatori ed è bene che sia così è bene che sia così perché chiaramente c'è adrenalina no in tutto questo e però naturalmente senza mai dimenticare che gli scacchi sono forse un gioco ci si scanna sulla scacchiera come dico io ma però dopo le cose sono le stesse assolutamente va bene io direi di concludere qua e invitiamo tutti quanti i nostri ascoltatori a partecipare al prossimo torneo di scacchi che si farà l'anno prossimo giusto ma si farà vedremo insomma pure qualche partita così qui in associazione la facciamo anche senza torneo ecco così una partita per amichevole ecco assolutamente sì e detto questo buonasera sì e Grazie a tutti.